Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, come potete vedere la mia sinistra oggi sarà un video unboxing. Per la precisione andremo ad aprire il nuovissimo Kingpad S8 della Vasking. È uno dei tablet a 8 pollici con il miglior rapporto qualità prezzo attualmente sul mercato. Infatti costa solamente 139 euro e attualmente in Amazon ha uno sconto coupon di 10 euro. Se per caso dopo aver visto questo video recensione vi dovesse interessare, vi ho lasciato il link diretto dello sconto Amazon in descrizione. Detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo con l'unboxing. OLLEEE! Estraiamo il nostro Vaski S8. Noto subito che è veramente molto leggero. Ha due telecamere, una posteriore e una frontale. Come potete sentire, questa S8 ha il telario in metallo. E questo mi fa un sacco piacere perché vuol dire che Vaski non ha risparmiato assolutamente sui materiali. Proseguendo con l'unboxing, vediamo qua cosa troviamo. Cavo USB di ricarica, utile per caricare il nostro Vaski, ma anche per passare i dati dal nostro tablet al computer. Trasformatore dotato di ricarica rapida. Infatti il nostro tablet si carica completamente in soli tre ore. E per finire vediamo cosa c'è qua dentro. All'interno della confezione troviamo il manuale di installazione, le estensioni di garanzia di ben due anni, la chiavetina per inserire la microSD e espandere la memoria. E ora passiamo al test. Per accendere il nostro tablet basta schiacciare per tre secondi questo tastino laterale. Ecco fatto. Intanto che se accende vi elenco alcune delle sue specifiche tecniche. Monta il sistema operativo Android 10, processore octa-core, display full HD, telecamera posteriore a 13 megapixel, telecamera anteriore a 8 megapixel, wifi in 5G, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile. E come ciliegina sulla torta il display del nostro S8 è dotato di sistema anti-affaticamento vista. Noto subito che è veramente molto fluido e veloce, guardate. E ora andiamo a testare i colori del display. Ok, bianco, nero, verde, rosso, giallo. Come avete visto i colori erano perfettamente omogeni per cui il test colore è superato. Ora è il momento di provare il touch screen. Guardate. 1, 2, 3, 4, 5. Nessun difetto o problema durante la pressione per cui anche il touch screen ha provato al 100%. E ora vi farò vedere delle foto e un video che è scattato direttamente con questo dispositivo. Guardate che belle. La telecamera da 13 megapixel posteriore è veramente tanta roba. Guardate il realismo dell'immagine. E tra l'altro, se io anche provo a zoomare, la qualità dell'immagine non diminuisce. Questo è un video che ho registrato in full HD con la telecamera posteriore. Guardate che bello. E nonostante io mi sposti a riprendere un altro soggetto, lo zoom automatico risponde perfettamente. Sia per quanto riguarda le foto che per il video non ho trovato particolari imperfezioni. Per cui anche la telecamera è approvata. E ora passiamo al test gaming con una super partita a Mario Kart. Mamma mia, sta pista e dà tantissimo che non la faccio. Speriamo di ricordarci il tracciato. Dai che partiamo bene. Così. Dai, gira, gira. Gira. No, è vero che si va anche sott'acqua qua. No, ci sono i granchi. Via, va, sali. Non me la ricordavo più questa. È da una vita che non ci gioca. No, gira, gira. No, le conchiglie. Via. Curva. Oh, siamo primi. No, via. È bellissima, non me la ricordavo. Da prendere le monete. No, no. Oh, vediamo il super salto. Uno. Due. No. Mamma mia, sta per cadere. Dai, su. Almeno è corta, così. Curva. Là. No, sta arrivando uno con la stella. Curva. Curva. Ma no, mi ha superato. No. Vai, gira, gira, gira. Manca scommesso. Oh, mamma mia, ce l'ho dietro. Manca. Veramente. No, mi ha tirato il cuscio. Che maledetto. No. 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 Dai. Curva. No, mi sa. Dai, superlo, superlo, superlo. No. Maledetto. Mi ha superato all'ultimo. Comunque, se avete visto, durante la partita, il gioco è stato molto fluido. Non ci sono stati né caricamenti e neanche lag. Anche il processore a octa-core ha rispecchiato in pieno le aspettative. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se anche voi, come me, siete appassionati di tecnologia, iscriviti al canale, così sarete aggiornati ad ogni mia pubblicazione. Anche perché settimanalmente pubblico video test, video recensione e video unboxing di smartphone, tablet, computer e tantissimo altro materiale collegato, sempre di tecnologia. Vi ricordo che in descrizione vi ho lasciato il link diretto Amazon di questo bellissimo Kingpad S8, per cui cliccando il link diretto che vi ho lasciato andrete direttamente nell'Amazon Store di Vaskin. Detto questo, siamo arrivati alla fine anche oggi. Un saluto dal nostro S8 e da Luca Tache. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!